Eccoci qua, buongiorno a tutti con il secondo video sull'opera di Alberto Burri, in particolare sull'opera di Alberto Burri conservata dalla Fondazione Burri a Città di Castello, nel Palazzo Albizzini e poi negli ex seccatoi. Ricomincerei questo secondo intervento citando in maniera più specifica il testo di Maurizio Calvesi che abbiamo citato già nel primo video. Maurizio Calvesi è stato uno dei critici più accorti e più penetranti nella lettura dell'opera di Alberto Burri. La sua biografia è sintetizzata nel file che vi ho mostrato già nel precedente video e comunque qui all'inizio sintetizzata appunto insieme a quella di Alberto Burri e aprirei il discorso mettendo al centro dell'immagine in questo momento una delle opere più note di Alberto Burri, cioè Rosso Plastica, di cui esistono comunque anche altre versioni. Questa opera è tra l'altro conservata a Palazzo Albizzini, proprio a Città di Castello. La pittura, o per meglio dire l'opera di Alberto Burri, copre un arco di circa 50 anni esatti, dal 1945 data delle sue prime prove pittoriche, al 1995 anno della morte a Nizza. Il suo iniziale tirocimio come pittore figurativo è stato molto breve, si chiude praticamente già nel 1947 a testimonianza del fatto che non era certamente la sua strada, era solo il primo, primissimo gradino o trampolino di lancio per opere ben più importanti. La produzione è astratta, si può suddividere in due grandi blocchi. Nel primo la superficie dei dipinti, accidentata e irregolare, a volte scoscesa, mette in evidenza la vita delle diverse materie, i sacchi, i legni, i ferri, le plastiche, con le loro crude superfici. Nel secondo diventa più livellata e irregolare, intrecciando al colore che può assumere un ruolo esclusivo le trame della materia, assunte ora solo e soltanto nel loro valore di vibranti tonalità, e non già nella drammaticità dei loro movimenti. Queste si presentano più uniformi, pur nel loro aspetto ruvido o poroso. Nel corso degli anni 70 il mutamento si coglie nel passaggio dai famosissimi cretti, di cui abbiamo già parlato nel precedente video, ai cellotex, anche questa tecnica, anche queste opere già citate, di cui esistono peraltro parecchie testimonianze concrete proprio agli ex seccatori. Ciò che non muta è il fermo e largo impaginato, il senso dello spazio, che, in Burri, è costantemente teso, serrato, dapprima in forme più tormentate, poi più piane e distese. Esso esprime sempre la stessa gagliardia plastica. L'apparizione dei Sacchi, all'inizio degli anni 50, suscitò tuttavia un enorme scandalo. Nonostante appunto fossero gli anni 50, si trattava di una novità assoluta e sconvolgente, e altrettanto sconcerto destarono le serie successive, dai legni alle plastiche, benché la critica più avveduta non avesse mancato di segnalarne la vincente bellezza. Mi sposterei su qualche altra opera, ecco per esempio questo bellissimo Ferro. Nessun'altra in effetti delle ricerche pittoriche degli anni 50 in Europa e nel mondo presenta una maggiore tenuta qualitativa. Qui Calvesi sta dicendo, sta citando un concetto estremamente chiaro e netto. Non ci sono artisti in questo momento storico, anni 50, nel quale Burri appunto punta già su delle opere considerate sconvolgenti. Non c'è in giro per il mondo un artista capace di mostrare nel lavorare e nel trasmutare, nel trasformare la materia di qualsiasi tipo la qualità della texture, la qualità della pelle pittorica, artistica, estetica, ma anche concettuale, se vogliamo, sensibile. Non c'è nessuno pari a Burri in questo momento storico. Né paragonabile all'opera di Burri per radicalità di innovazione linguistica, considerate anche le sue precedenze sugli americani che formeranno i movimenti del new data e della pop art, che artisti che, tra l'altro, come poi per altri, proprio da Burri furono stimolati e influenzati, comunque precorsi. Qualche esempio, in un dipinto del 1949, il motivo della bandiera americana, che sarà poi così caro a Jasper Jones, anzi, possiamo dire che Jasper Jones, lo identifichiamo proprio con le opere che mostrano la bandiera americana, è già presente in Burri. I dipinti Gobbi, la cui tela è spinta in avanti da una sommaria armatura in metallo o con rami recuperati anche a caso, incastrati nel telaio, anticipano le ricerche della Shepard Canvas, cioè dei quadri concepiti come strutture a tre dimensioni di tela con armatura interna. Numerosi poi sono gli spunti che Robert Rauschenberg, dopo aver visitato lo studio di Burri a Roma, non dimentichiamocelo, nel 1952 Rauschenberg era a Roma e Burri che dopo essere ritornato dall'America nel 1943 e aver deciso di fare esclusivamente l'artista, si era praticamente trasferito a Roma in quel momento, aveva uno studio a Roma e fu visitato questo studio appunto da Robert Rauschenberg. Per chi conosce Rauschenberg è facile fare dei confronti, e è facile capire che Burri è stato importantissimo, quindi trovò nella sua opera dall'impaginato assemblagistico al motivo del tutto nero o all'impiego della chiusura lampo, per dire. Dell'interesse per Burri, dei militanti europei del cosiddetto nuvo-realismo, abbiamo testimonianze a volontà, a parte l'italiano Mimmo Rotella con i suoi decollage che da Burri notoriamente prendono le mosse, le incordature dei sacchi annunciano gli imballaggi di Cristo, l'artista che poi ha lavorato, ha fatto un intervento, un'installazione proprio nel cretto di Gibellina. Nel 1958 Burri si fa fotografare mentre spara su un barattolo di birra, poi la lamiera sforacchiata, hissata su un perno, è proposta come scultura. La sequenza appare in una rivista americana, Horizon, nel gennaio del 59, con il titolo Nascita di una forma d'arte. Per Burri è solo un gesto, per Nicky de Sanfal il suggerimento per una carriera intera. Nel 58-59 Eve Klein dà inizio ai suoi fuochi che ripetono alla lettera le combustioni di Burri, per non parlare di una larga schiera di minori in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti e altrove. Divenuti leggendari, i sacchi di Burri non sono tuttavia che un particolare momento della sua ricerca, che aveva preso le mosse dall'uso di materie come i catrani, le muffe, di un genere cioè ancora similabile per qualche aspetto alla natura degli impasti pittorici nella loro possibilità di essere spalmate o meglio raggrumate sulla tela. Le opere così realizzate alla fine degli anni 40 denunciavano già la visione che Burri ha della pittura come entità dotata di una propria vita organica. Mi sposto ancora per vedere qualche altra opera non mostrata o per rivederla, insomma. Si parlava di vitalità organica. Ogni dipinto si presentava in effetti come un organismo riarso ma cupamente lucente, nero-bluo, rosso e terroso con le sue screscenze e contrazioni, borchie di pigmento incrostato e pezzature, ferite ed innesti operati incidento nello strato colorante o sovrapponendo bordature più scure. In altre opere il pittore perseguiva un ordito di toni con sporcatura di colori impasti di sabbia e olio alternando gli accenti più cupi dei catrani, orchestrazioni di materie chiare che valorizzano la rifersione della luce. L'intensità espressiva, la tormentata tensione delle forme, la loro crudezza, non escludevano però una raffinata e talvolta persino elegante qualità di rapporti tonali. E qui aggiungerei anche di rapporti formali, cioè c'è, apro una parentesi dichiarando che non sto citando Calvesi, è evidente in tutta l'opera di Burri una saggezza formale, compositiva, spaziale, di superficie che risale alla storia dell'arte del passato dall'antichità greco-romana fino al Rinascimento e naturalmente anche al Barocco. Cioè c'è una saggezza nella distribuzione di forme o di informi elementi che è evidente, è evidentissima. Chiusa la parentesi, torno a Calvesi. È intorno al 1950 che è data la nascita dei Sacchi e se inizialmente la trama povera delle tele di Sacco che personalmente ritengo risalga all'ordine francescano mendicante dei tempi di San Francesco, appunto, e questo si può ben capire se si guarda con attenzione il film di Roberto Rossellini appunto su Francesco, Francesco Giullare di Dio, se si guarda quel film e si conosce Alberto Burri e se si sa anche entrambi hanno operato nella stessa zona Umbra, si capiscono moltissime cose, si possono fare associazioni mentali, concettuali, culturali, estetiche, religiose, molto molto interessanti e molto efficaci. E se inizialmente la trama povera delle tele di Sacco si mescola al colore verso 1952, Burri si spinge ad alternare sul telaio a zone di pente i sacchi grezzi senza più sovrapporre tra di loro questi due elementi distinti e dialetticamente accordati. La materialità delle loro pezze di viuta non viene velata o riconfusa con gli strati di colore ma è invece evidenziata mettendo l'accento sulla sua intrinseca bellezza. tra un nero opaco suonante e un bianco di calce robustamente incastrati ai margini del dipinto la luce abbassata e carica di torpide suggestioni che le fiude del sacco decantano è luce di una logora e compromessa resistenza sudore del tempo ma anche assaporamento di quello stentato transito del tempo in una durata godibile dei tono quasi il riscatto e la sublimazione di un logorio patito nel profondo di se stessi via via che ci si inoltra in una fase sempre più esplicita di sempre più esplicitazione gli strappi e le cuciture sono sempre più ferite quasi carnalmente rimarginate la materia subisce strappi e sfibramenti l'atto crudele di lacerare di cauterizzare di slabrare di trapassare in bastire con l'ago si inquadra fortemente nella tensione della pagina spostiamoci su qualche altra opera ecco questa che per esempio abbiamo visto poco tra Burri e le sue materie si crea uno scambio di influenze con i sacchi evocativi e significanti della loro testualità esistenziale c'è un'intesa profonda un pareggio di presenze e di intervento le plastiche sono invece più ricche di possibilità recettive determinano una violenza di intervento che si esplicita nell'espressionismo delle combustioni il fuoco lascia le mere tracce della sua azione già anche nei legni e nei ferri tornando così a disegnare nelle inquietanti cavità che avevamo incontrato nei catrani e nei sacchi nei ferri le lamiere aperte e ripiegate riflettono un intervento la cui simbologia inconscia potrebbe essere ulteriormente cercata sia pure nell'ambito di un invisibile processo psichico estetico che emerge nei termini di un serrato discorso formale allora vediamo se trovo uno dei ferri appunto l'abbiamo visto poco fa però ritornerei su quell'opera era qui sotto questo è uno ad esempio nei ferri le lamiere aperte e ripiegate riflettono un intervento la cui simbologia inconscia potrebbe essere ulteriormente cercata sia pure nell'ambito di un invisibile processo psichico estetico che emerge nei termini di un serrato discorso formale resta comunque una costante pur nell'alternarsi nel rinnovarsi delle materie il robusto impaginato compositivo e spaziale si tratta di qualcosa di strettamente complementare alle lacerazioni inflitte alle materie è come un orizzonte fatale di fissità e quasi di eternità con cui si confronta la relatività temporale del logoramento e dell'azione è il momento costruttivo che entra in dialettica con quello distruttivo formando una serrata unità potrei dire da questo punto di vista che l'opera di Burri si inserisce perfettamente anche nell'ambito di un discorso nicciano di Apollineo e Dionisiaco di costruzione e decostruzione di tipo deridiano ne potremmo dire molte altre di cose da questo punto di vista evidentemente l'aspetto costruttivo e distruttivo fa proprio parte di quello che poi Jung come dicevo nella primo video ha chiamato il processo di individuazione ma si può anche inserire in un ambito di tipo filosofico di tipo letterario tragico ricordando le fasi della tragedia antica per esempio quindi questo succede però con un artista che è di grandissimo livello non succede con artisti di più scarso livello è il momento costruttivo che entra in dialettica con quello distruttivo stavamo dicendo la geometria e la materia l'inquadratura e il segno la forma e l'informe sono dati anche psicologicamente correlati e inscindibili dopo lo scandalo e il rifiuto di buona parte della critica per Burri il successo senza riserve arriva negli anni 60 e si consolida alle soglie degli anni 70 ma intanto la sua visione tende a rassalionarsi depone gli accenti drammatici della ricerca informale pur conservando tutta la propria solennità ed ampiezza di respiro come dimostra la bellissima serie dei cellotex qui esposta cioè esposta appunto agli essiccatoi ma non solo è ormai lontano il dopoguerra nel cui clima erano nati i sacchi che non per nulla in una delle interpretazioni avanzate dalla critica erano stati visti anche come l'emblema di un'Italia povera e lacerata coinvolta in una dolorosa disfatta assetata di nuovi valori nella serie dei cretti in caolino l'accento cade ancora sulla fenomenologia della materia che tuttavia non subisce più alcuna violenza ma si inquadra in una composizione mirabilmente disegnata dal motivo quasi calligrafico delle screpolature questo tracciato una rete ora più folta ora più rarefatta mettendo in chiaro risalto il discorso formale della sua sublimante volontà d'ordine aprirei una parentesi in questo senso per associare le crettature il craclé appunto che come si ricordava poco fa sembra essere composto da percorsi destinali percorsi del destino associare questo cracleo questa crettatura alle alle linee della mano che le realizza che le ha realizzate che le realizzerà cioè c'è un'associazione diretta tra la linea del destino delle proprie mani tra i solchi le impronte dei propri polpastrelli e le crettature realizzate da Burri e se vogliamo anche là il grande cretore di gibellina come destino di tante persone di tanti uomini che lì hanno perso la vita tra l'altro così Burri compone visioni di una straordinaria e maestosa semplicità architettonica segnate da una sorta di orizzonte che suggerisce il dilatarsi dello spazio o dove si accampano in nero o in grandi campiture di colori forme di una monolitica potenza uno degli esiti più eloquenti di questa depurata solenne ricerca sono le grandi sculture in ferro della prima metà degli anni Ottanta abbiamo anche qualche esempio proprio negli spazi antistanti gli ex seccatori nella serie intitolata Sestante dell'Ottantadue tutta affidata al colore Burri il grande astratto rovescia di nuovo la propria sfida torna al pennello quando ormai questo sembrava messo fuori causa dal dilagare delle ricerche estrapittoriche che nella scia delle sue ricerche avevano preso il sopravvento a livello internazionale come inizia e l'otex straordinari equilibri collegano una zona di colore all'altra ogni zona di colore ha il suo peso ma anche una sua agilità un'immobile fissità ma anche una potenzialità dinamica le vaste composizioni comunicano un tempo vivacità e gravità leggerezza e peso appunto stasi e movimento le forme sono estremamente variate ai moduli squadrati si alternano curve e arabeschi a pause rarefatte incontri affollati di particelle organiche animate come cellule ameboidi contornati dal nero i rossi gli azzurri ricevono un vivo impulso ogni colore è sempre nitidamente scandito e individuato nella sua fisica consistenza spoglio di ogni fremito lirico o simbolismo non cerca trasparenze ma impone la propria compattezza e il proprio timbro anche il colore è per burri materia sostanza corposa come biologicamente dotata di una propria vitalità e ciò che il pittore esalta appunto è l'urgenza vitale che si sprigiona dalle sue pulsazioni allo stesso modo nei precedenti decenni nei sacchi legni ferri combustione burri evocava la vitalità l'esposizione all'esistenza delle diverse materie rimane costante la profonda adesione alla fragranza del mezzo impiegato come in una ricerca di testimonianze organiche elementari della vita ricerca sempre rinnovata immaginata in un momento diverso in uno scatto successivo così nel reagire delle plastiche al calore del fuoco così nella serie colorata del sestante nel rimpicciolizzo in grandissime forme nel frammentarsi dei colori o nel loro compatto estendersi è come se l'occhio ora si allontanasse dominando vasti orizzonti ora invece si avvicinasse quasi al microscopio spiando il brulichio e la fioritura gli scarti le compenetrazioni di quegli elementi protoplasmi che sono i tasselli colorati il decennio che va dalla metà degli anni Ottanta all'anno della scomparsa di Burri è dominato da dipinti che hanno per titolo nero annottarsi inquietante e suggestiva espressione annottarsi che è come dire farsi notte inoltrarsi nella notte per Burri giunto al settantesimo anno di età è anche un farsi notte dell'esistenza un andare verso l'estrema soglia tonalità il nero spesso accordato al rosso fin dai sacchi o in anni successivi all'oro in un accostamento di potente espressività che si coglie anche nei cello tex ora occupa quasi interamente la sua immaginazione recuperando all'interno delle proprie gambe una ricchezza di rapporti e di passaggi la tecnica è per lo più colore acrilico sul supporto ancora di cello tex spesso sposato alla pietra pomice alla pienezza gioiosa di precedenti momenti si contrappone una tenebrosa compilazione una tenebrosa contemplazione un'uguale densità ma rovesciata di segno un colloquio curvo o sommesso di sagome affatto nere con il fondo di un grigio intenso di una opacità che luce non del tutto spenta come sotto le ceneri facendosi notturni da un punto di vista come in volo dall'alto i pensieri di assoluto incrociano ora gli orizzonti di un approdo al silenzio il rapporto tra le diverse tonalità del nero tra gli andamenti delle forme profilate e il dialogo delle tessiture pittoriche delle diverse modulazioni generano un risultato di muta solennità quasi passaggi in architettura intravisti nella notte e tuttavia senza alcun riferimento naturalistico nei vastissimi locali degli ex seccatori del tabacco che a città di Castello luogo di nascita di Burri ospitano i grandi cicli degli ultimi anni da il viaggio del 79 al sestante ai quadri neri e nero oro può cogliersi appieno l'ampiezza del loro respiro spaziale erede di una tradizione italiana che tra parentesi come dicevo poco fa risale all'epoca greco-romana alle proporzioni anche auree alle forme geometriche dello spazio che poi ritornano da Giotto a Piero della Francesca al Rinascimento a Perugino e a tanti altri artisti chiusa parentesi devo confessare che quando visitai per la prima volta qui è Calvesi che sta parlando gli ex seccatori ebbe l'impressione di trovarmi di fronte a una sorta di cappella sistina del XX secolo tale è la loro monumentalità una monumentalità prodigiosamente rinnovata non più nel più ardito e affrancato dei linguaggi contemporanei affrancato e radicalmente da ogni nesso con le forme del passato è la purezza del dettato astratto ma collegato a un'antica traccia della ricerca italiana in questo rinnovato sentimento dello spazio che nella pittura di Burri è messo come a nudo e diventa non più teatro della rappresentazione ma un suo protagonista assoluto gravido di una drammatica profondità percorso da tensioni e da contrasti di forze il dettato della mente governa e riordina gli impulsi psichici che premono dal profondo non li reprime ma li contiene nutrendo della loro spinta la forza stessa della propria razia che ora emerge con più imperioso unitore e ora si trattiene nel magma che è chiamata a dominare impellenti traini istintuali carichi di energia anche lui e distruttiva si ricompongono nell'attraversare l'architettonica zona di luce dell'intelletto lo spazio è questa superiore architettura ricomposta dunque uno spazio che perpetua la misura la mens mensura degli antichi ma sottoponendola all'inedito confronto con quel vivaio di inquietudini l'inconscio la psiche su cui bordi l'arte del nostro secolo sia così spesso ma mai solennemente affacciata ecco questo era il testo di Maurizio Calvesi che in parte ho voluto commentare appunto e riprodurre comunque integralmente in questo in questo video bene ripartirei adesso rapidamente con una citazione seppur minima dell'articolo che riassume un po' la grande mostra per il centenario di Burri che è stata allestita al Guggenheim di New York per poi passare a illustrare rapidamente alcuni aspetti interpretativi interpretativi una mia personale armeneutica specifica che è sintetizzata alla fine di questo file in questi punti molti dei quali sono stati già sono stati già trattati e fisserei un attimo l'immagine su questo grande cretto su questa bellissima foto l'articolo iniziava in questo modo non lo citeremo tutto citeremo solo alcuni pezzi il passaparola ha funzionato subito frotte di giovani chiaramente interessati all'impeto di impressioni visioni e possibilità di viaggiare con l'immaginazione affollano le sei rampe ascendenti del Guggenheim Museum che accoglie la grande mostra per il centenario della nascita di Alberto Burri città di Castello 1915 inizia 1995 aperta fino al 6 gennaio 2016 per poi essere trasferita una mostra comunque itinerante al Kunstsamlung North Rhein Vesfalen di Düsseldorf gli spazi tanto affascinanti quanto difficili per qualsiasi esposizione ricordiamo che il museo il Guggenheim di New York è costituito da una sorta di spirale a chiocciola che si allarga verso l'alto gli spazi quanto mai affascinanti ma anche difficili per qualsiasi tipo di esposizione hanno messo a dura prova l'architetto allestitore che per l'inclinazione dei muri ha pensato di sospendere nel vuoto le opere e ha quindi alzato pareti trasversali capaci di accogliere i cellotex e i cretti di grandi dimensioni in quell'andirivieni tra avvitamento e distesa cui la struttura museale obbliga i visitatori i catrami le muffe i sacchi le combustioni i ferri ti vengono incontro come membrane pelli di corpi le opere che si mettono all'incrocio dei più importanti movimenti del secondo dopoguerra e il nuovo realismo francese l'arte processuale l'arte povera alcuni aspetti del post millennialismo e anche un'arte di tipo femminista nell'iconografia del corpo la curatrice Emily Brown ha curato la mostra con singolare scrupolo filologico come risulta dal catalogo ha portato a buon fine con il contributo di due collaboratrici una delle ricerche più approfondite mai svolte da un'istituzione straniera su un artista italiano della seconda metà del novecento non ha mai sottovalutato i problemi da affrontare sia per le opere sia per gli spazi destinati a contenerle quattro anni di lavoro per impostare questa mostra ha visto le prime opere una per una ne ha selezionate cento storicamente importanti e le migliori di ogni serie capaci di adattarsi in sequenza proprio alla spirale della rotonda di Wright e queste opere sono state poi chieste in prestito ai più grandi musei del mondo tanto per fare un esempio ai musei vaticani a Palazzo Albizzini cioè alla Fondazione Burri e così via al museo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma che oggi si chiama Galleria Nazionale e così via dicevo da sole farebbero la perfetta antologica di un'esperienza continua sia per il piacere della scoperta che per la crescita della conoscenza la Brown analizzando l'opera dell'artista Umbro nel contesto dell'Europa in subbuglio e di un'Italia tutta coccia e carcasse di macchine bruciate come diceva lo stesso Burri ha deciso di dare l'esposizione con un documentario sui bombardamenti di Milano Napoli Genova ed aprirla con le tre plastiche del 62-64 per poi chiuderla con i cinque disegni del 46-47 sulle desolazioni e allucinazioni della guerra ricordiamo che lui tornando si è trovato tornando dall'America come deportato si è trovato di fronte proprio negli anni 46-47-48 e così via a un'Italia fortemente depressa povera umiliata distrutta e quindi sono stati fatti dei paragoni senza alcun timore con il neorealismo e con un certo realismo pittorico certamente non un realismo alla guttuso però indubbiamente ci sono delle convergenze che io stesso ho fatto presente proprio anche nel nel video precedente ci sono delle forti convergenze con i grandi registi come Rossellini Sconti De Sica nel modo di descrivere la quotidianità la drammaticità della condizione contemporanea dell'uomo in Italia in un'Italia post bellica proprio nei primissimi anni e quindi sono opere che rivelano anche una grandissima forza espressiva e comunicativa questo un po' potrebbe sintetizzare senza senza citare tutte le tutte le tutte le parti di questo intervento sulla mostra di New York potrebbero essere più che sufficienti queste frasi insomma passerei invece a citare rapidamente a citare rapidamente alcuni punti che avevo messo in evidenza che ho messo in evidenza nel file che sono spunti interpretativi ulteriori il primo punto è sicuramente l'associazione dell'opera di Burri con le topiche di Sigmund Freud ios superiore e anche in un certo senso con il cosiddetto con la metafora dell'iceberg potrei dire che l'opera di Burri in un certo senso evidenzia proprio tutte quelle parti dell'individuo contemporaneo tutte quelle parti del sé che erano disperse nelle acque torbide e profonde e che ora cominciano a riemergere quelle acque profonde torbide limacciose della della drammaticità della storia ma anche del proprio inconscio delle proprie rimozioni e tornano fuori riemergono come eruttate improvvisamente da un inconscio che non ha più capacità di contenere tutte queste cose e quindi devono emergere ed emergono quindi la materialità più misteriosa e magica emerge erutta deborda dalla coscienza infelice della società moderna e dunque erosioni combustioni lacerazioni sublimazioni abrasioni sparizioni rimozioni pus grumi viquefazioni pelli pellicole squame decorticazioni deiezioni muffe coaguli essudazioni aderenze spaccature condensazioni incrostazioni ferite incisioni tagli deformità forature ebollizioni ossidazioni slabbrature cauterizzazioni sezioni di organismi decolorazioni strappe pieghe rigurgiti graffiti della crescenza stratificazioni psicologiche gonfiori buchi ecco già la semplice citazione di termini variegati per le opere di Burri fa capire la vastità degli agganci la vastità di ramificazione simbolica iconografica e iconologica di un artista come Burri secondo punto Jung e gli archetipi Jung e l'alchimia l'opera al nero la trasformazione e trasmutazione della materia la sublimazione i passaggi di stato come passaggi di stati di coscienza l'azione dei quattro elementi della natura tutte cose riscontrabili nell'opera storica di Alberto Burri terzo punto Spinoza e quindi anche il precedente Giordano Bruno ma anche Schopenhauer e Nietzsche Spinoza per il conatus cioè la persistenza della materia anche brutta a voler essere a voler interagire con gli organismi viventi animati o umanizzati quando dico Spinoza intendo soprattutto l'etica la sua grande opera etica di Spinoza nella quale appunto parla della materia stessa quarto punto burri e gli esiti della seconda guerra mondiale in Italia questo ne abbiamo già parlato nel primo video e quindi non ci sto ancora sopra il piano Marshall quinto punto il piano Marshall i sacchi i sacchi del tabacco gli essiccatori l'essiccazione altro termine sicuramente alchemico o se vogliamo legato legato appunto al processo di individuazione di Jung alle varie fasi del processo di individuazione ma poi aggiungerei però per quanto riguarda i sacchi il francescanesimo il sacco saio di Giuta importantissimo nell'area di Assisi i poverelli il poverello di Assisi la materia che è la materia più umile che da sola come dire gratifica e glorifica la santità in un certo senso e vale di per sé quella materia quella materialità umile che poi è diventata reliquia infinite reliquie forse anche troppe ma reliquia sesto punto l'io pelle l'io involucro che contiene con difficoltà testare la tensione interna contenitiva dell'organo pelle l'archetipo pelle cioè lo studio infinito e variegato infinitamente variegato della texture delle texture da parte di Alberto Burri è un po' come un testare possibilità di realizzare un organo pelle un io pelle secondo poi quella che è alcune aree della psicologia e della psicoanalisi più recente che sia un io pelle che sia appunto più contenitivo che riesca a contenere con maggiore efficacia quelle parti di sé che abbiamo citato prima ripartire dalla vitalità primordiale della materia dai suoi tentativi di connessione energetico-chimica settimo punto ottavo punto il ritorno del senso del tatto l'idea dell'opera come grande madre che assorbe le sofferenze che è curativa e che chiede il contatto di questo poi nei stessi anni in cui Burri come maggior protagonista dell'informale gestuale dell'informale materico trova contatti straordinari con alcune teorie della sociologia e della filosofia come quelle di Marshall McLuhan nei quali aveva messo in primo piano proprio il tattilismo non dimentichiamoci comunque che anche qui sul valore del tatto sul senso del tatto i futuristi avevano lavorato moltissimo e non da ultimo la stessa pedagogista Montessori nono punto l'oggetto transizionale di Winnicott cioè l'opera d'arte in particolare l'opera di grande superficie proprio perché come grande pelle come grande madre diventa un oggetto transizionale che assorbe volentieri tutte le proiezioni psicologiche conscie inconscie degli spettatori e che si propone quindi per un'infinità di confronti e di simbolismi di tipo empatico il decimo punto il barocco della materia il dio nisiaco nella pelle della società frantumata del barocco della materia nel senso che l'opera di Burri l'interesse per la vitalità l'esuberanza vitalistica della materia richiama sicuramente anche l'epoca barocca e la decoratività barocca ma anche i pittori del barocco in particolar modo non so possiamo pensare a un Rubens per dire i contanti possono essere molto fecondi undicesimo punto il proposito inconsapevole di testare nuove texture contenitive adattative con maggiori affordance questo è una ripetizione di un concetto precedente dodicesimo punto la materia ha un suo essere una sua primordiale evolizione un proprio segno e destino questo è un modo diverso di dire ciò che aveva già detto appunto o fatto pensare Spinoza nella sua etica si parla sempre del conatus cioè di una energia primordiale delle cose che tende a trasformare le cose a rendere sempre più elevate dal punto di vista della coscienza la parola conatus si può tradurre con la parola libido o con la parola agency ci sono infinite possibilità di ripetere gli stessi concetti anche la Montessori aveva trovato una sua definizione di questa energia che fa parte del bambino primordiale e che non ha bisogno di nessun insegnamento particolare perché si muove da sola in un certo senso si cerca da sola la propria evoluzione tredicesimo punto il riflesso nella sola materia brutta delle fermentazioni psicologiche della cattiva coscienza della nerezza malinconia dell'uomo post bellico questo è un concetto che è stato espresso un po' in tutti e due i video in vario modo quattordicesimo punto e poi mi fermo l'evoluzione del ready made di Duchamp in ready destroyed si tratta cioè di una materia di utilizzare una materia non che è già stata formata e conformata ma di una materia che conserva memorie di distruzione che quindi è già stata distrutta il già distrutto Burri non utilizza il già prodotto dall'industria ma utilizza il già distrutto dalla guerra dalla società contemporanea dalla cattiva coscienza dalla nerezza malinconia come stavo dicendo poco fa si tratta quindi di una materia che ha già vissuto che ha già incarnato fasi storiche eventi umani memorie o addirittura damnazio memorie manipolazioni coniuxi oppositorum proiezioni una materia che non è affatto materia bruta incosciente ma che si propone come qualcosa di vitalistico che punta sempre alla collaborazione con l'essere umano che può che solo può riconoscere la sua volontà di passare di stato di cambiare stadio di consapevolezza e qui mi fermerei perché gli stimoli su Alberto Burri sono infiniti non possiamo fare non possiamo fare troppi discorsi bisogna che ognuno interpreti nel proprio nella propria visione del mondo nella propria del Tanxiang le parti più seconde di questo che non si è così così Grazie a tutti.